Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con una nuova recensione di un calciatore della scuola della settimana. Continuiamo a parlare di Juventus perché abbiamo visto Tevez nella sua versione base e oggi vediamo un centrocampista, probabilmente il più forte centrocampista della Serie A, Arturo Vidal. Abbiamo visto qualche settimana fa in una scuola della settimana il mini Vidal per le statistiche, Nengollane, oggi andiamo a vedere proprio il giocatore principale, quello a cui parte tutto. È probabilmente il miglior centrocampista della Serie A, statistiche veramente interessanti, praticamente sono tutte o verdi o verde e scure tranne la precisione sulle punizioni che è gialla, quindi ci aspettiamo grandi cose. Iniziamo come sempre la velocità, velocità che è ottima per un centrocampista. Contate che Vidal è anche quasi troppo veloce per un centrocampista, però grazie al sub-worker il salto alto, questa velocità la sfrutta tornando in difesa, buttandosi dentro, quindi vi capiterà spesso che Vidal va a inserirsi in attacco, vai a recuperare in difesa con uno sesso, quindi ottima la velocità per questo giocatore, uno dei migliori centrocampisti per quanto riguarda le qualità fisiche del gioco, non solo della Serie A ma del gioco. Per quanto riguarda il tiro, qualche miglioramento rispetto alla versione base, soprattutto nella potenza di tiro e anche un pochino nella finalizzazione, anche se qualche problemino lo ha, però dobbiamo considerare sempre che Vidal è un centrocampista, quindi non possiamo chiedergli tantissima finalizzazione, non nasce neanche come trequartista, quindi è in linea, anzi è probabilmente anche migliore della stragrande maggioranza dei centrocampisti centrali di FIFA 15 Ultimate Team. Per quanto riguarda il passaggio, qui sono stato piacevolmente sorpreso, perché ha un ottimo passaggio, quasi ai livelli di Pirlo, perché riuscite a fare tranquillamente dei filtranti molto precisi, anche lunghi, quindi Vidal è utile anche per fare molti assist, io ne ho fatti parecchi nelle 15 partite che per ora l'ho provato, mi pare 6 assist e 5 gol, quindi davvero niente male. Dribbling anche qui buono, ha un ottimo controllo di palla, secondo me, considerando che è un centrocampista centrale, l'unico piccolo problema sono le tre stelle skill, ma anche qui è un centrocampista, quindi non possiamo chiedergli di avere magari le skill di Ronaldinho, Neymar, è un giocatore molto pratico, quindi non fa mai le sesismi di troppo, è proprio uno che va dritto al sodo. Per quanto riguarda la difesa, qui ottimi valori difensivi, perché in a-tackle è in grado di rubare palla tranquillamente agli avversari, di fisico riesce comunque a farsi valere, poi con la velocità riesce a recuperare, come detto, tutti o quasi tutti, tranne due o tre giocatori, gli avversari e rubargli la palla. Quindi, che misri stai consigliati per questo giocatore? Io vi direi o gladiatore che va a aumentare il tiro e la difesa, il tiro giusto per portarglielo magari un pochino di più se lo vogliamo utilizzare come trequartista, magari qualcuno si lancerà in il trequartista, oppure vi consiglio il chemistry style di base che va a migliorare un po' di tutto, tanto Vidal, abbiamo visto, che è in grado di fare tutto in mezzo al campo. Dove utilizzare questo giocatore? Abbiamo detto, work rates alto-alto, e si sente, perché comunque è un giocatore che va sia molto in attacco sia molto in difesa. Devo dire che mi è sembrato comunque molto intelligente, perché quando l'ho schierato nel 4-4-2 con Chedira, quando Chedira andava in alto, in avanti, ad appoggiarsi alle punti nonostante il suo medio-alto, Vidal non andava anche lui all'attacco, lasciando scoperta tutta la squadra, ma dava una mano in difesa restando indietro, quindi comunque un giocatore molto intelligente e bravo nel posizionamento. Dove utilizzarlo, quindi, un 4-3-3, in questo caso da mezzala a sinistra con Pogba a mezzala a destra, due giocatori che possono buttarsi dentro, sono bravi nel tiro da fuori, ottimo dribbling, ottimi passaggi, poi abbiamo Gervinio Quadrati-Guain, che secondo me è uno degli attacchi migliori della Serie A, se vi trovate bene potete mettere anche Tevez, punta unica. Alternativa numero 2, in questo caso è un modulo particolare, una squadra un'ibrida, perché abbiamo Vidal, Pogba, Pirlo in mezzo, quindi è un centrocampo che si buttano dentro Pogba e Vidal e poi abbiamo Pirlo un po' a smussare il gioco, abbiamo Lucas e Alessandrini sugli esterni a correre e poi a crossare, comunque vi consiglio di giocare palla a terra, perché? Perché la casetta è un giocatore veloce, ma di testa, non è un gran che, poi abbiamo la difesa del City con Clichy, Mangala Company e l'inserimento di Ruffier a dare l'intesa a Lucas. In conclusione, Vidal ha un'ottima velocità per un CC-CDC, ma anche COC, quindi per tutti i ruoli dei centrocampisti, Vidal ha un'ottima velocità, il tiro è ok, addirittura 4 stelle più debole, è un buon dribbling considerando il giocatore, ha dei passaggi ottimi e una presenza costante in difesa, perché comunque dà sempre fastidio agli attaccanti, si mette in mezzo sui passaggi, è aggressivo, recupera tanti palloni, eccetera, eccetera. Di contro, la finalizzazione ma resta un CC, le 3 stelle skill ma resta anche qui un centrocampista centrale, quindi non possiamo chiedergli chissà che, e il base è fortissimo, perché già la versione base di Vidal, che costa circa 15k, è fortissima, fa già praticamente tutte queste cose qui. La versione IF lo va a migliorare, perché comunque è più forte la versione IF, però considerate che costa 188k su Xbox e 270k su PlayStation, vi consiglierei di comprarlo magari verso i Team of the IA. Quindi, con oggi abbiamo concluso, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!